Vi sono cose a questo mondo per cui vale la pena combattere e morire. Siamo guerrieri. Questo siamo. È il nostro mestiere. Moschettieri! Moschettieri! I tre moschettieri? Sono venuto a Parigi per diventare uno di voi. D'Artagnan, vuoi diventare moschettieri? Questa è la tua occasione. Viviamo in un regno dominato dalla paura. Il cardinale controlla il territorio. Buckingham controlla i cieli. Le mie nuove macchine da guerra ristabiliranno l'equilibrio. E lei è la più feroce assassina che il mondo abbia mai conosciuto. Insieme metteranno a ferro e fuoco l'intero continente. Siamo i moschettieri. È nostro compito porre fine agli intrighi del cardinale. Mi farebbe bene del movimento. Tutti per uno? Uno per tutti! Guardate fuori dalla finestra. Secondo atto. Eravamo in quattro contro quaranta di loro. Erano quaranta? O quattrocento? Quaranta, quarantadue. Giornata fiacca. Eravamo in quattrocento? Eravamo in quattrocento? Eravamo in quattrocento? Grazie a tutti.